Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma ci sono rallentamenti tra Aglio e Barberino per materiali dispersi e sempre per materiali dispersi rallentamenti tra Valdarno e Incisa Reggello. Sulla FIPILI per lavori è chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Fare inoltre attenzione per personale su strada segnalato tra Bicarello e il Bivio per la A12 in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!